A Treccani lavora da quasi un secolo sulla difesa della cultura italiana, una cultura che ha molte espressioni, moltissimi valori. Nell'Italia i Santi abbiamo voluto studiare quali sono i tratti distintivi dell'identità italiana. Sono sicuramente la nostra lingua, la nostra storia che ci rende cittadini, che rende il nostro paese differente, con grandissimi valori. Ma la santità ha un grandissimo ruolo nella costruzione di questa identità. Nella storia del nostro paese il rapporto con la Chiesa, con la spiritualità, con tutte quelle forme attraverso le quali la spiritualità è riuscita a creare appunto quel senso forte di comunità, di noi italiani, è qualcosa appunto che abbiamo voluto studiare per dare testimonianza del rapporto forte, probabilmente impossibile da dividere appunto tra il mondo della fede e il mondo laico.